Il termine segno è una parola forte, ricca a fine del suono, una similante di partenza, S, che si trasforma in una generosa palatale, GN, associata al suono chiaro E e al suono cupo O. Da esso derivano parole come segnale, insegna, assegno, contrassegno, disegno, segnalare, insegnare e disegnare. La parola segno deriva dal latino signum, ricollegabile alla radice del verbo seco, che vuol dire taglio. Rappresenterebbe cioè un'incisione, un marchio. Secondo Cicerone, se c'è signum, ci sarà anche altro, probabilmente una ferita. In questo senso è utilizzato anche dall'Evangelista Giovanni, che chiama le pieghe di Gesù signum clavorum, che significano segno di chiodi. Il segno è qualcosa che evoca più di ciò che rappresenta in sé. È un elemento ambiguo, imbilico tra ciò che letteralmente è e ciò che vuole simboleggiare. Tale aspetto è ben evidenziato da Agostino, il quale nel De Doctrina Cristiana afferma che signum est res preter specem quam ingerit sensibus, aliud aliquid ex se facens in cogitazionem venire. Sicut vestigio viso transisse anim al cuius vestigium est cogitamus. Et fumo viso ignem sub esse cognoscimus. Et voce animanti saudita affeccionem animi eius advertimus. Et tuba sonante milites vel progredis e vel regredi. Et sicuid aliud pugna postulat o fortere noverunt. Il signum è dunque collegato al passato, al presente e al futuro. Ci sono poi due tipologie di segni, spontanei e creati. In quest'ultima categoria inseriamo le parole, segni convenzionali per eccellenza che l'uomo utilizza per esprimersi e comunicare, al fine di rappresentare e nominare il mondo. Tale convenzionalità è studiata dalla semiotica, la scienza dei segni. Si afferma quindi la tendenza a sostituire la vera realtà con simboli, evocando realtà che non ci sono. In questo senso operavano i poeti provenzali, utilizzando il senal, adoperato anche da Petrarca, nel riferirsi a Laura senza nominarla. Egli allude a lei utilizzando nelle sue poesie suoni che la ricordano. Il vocabolo signum ha una straordinaria predisposizione alla pluralità dei sensi, come abbiamo visto vuol dire segno o traccia, ma può assumere anche altri significati, come insegna militare, per indicare lo standardo della regione, costellazione, in quanto segno celeste, senza che sia mantenuto fino ad oggi nell'espressione segno zodiacale, un'immagine artistica, spesso una statua, un sigillo, infatti con questa accezione usato da applauso nel curculio, ed infine con il senso di miracolo, così utilizzato nei Vangeli. I derivati in latino sono Il verbo significo, esprimere, significare e predire. Il verbo signo, sigillare, indicare e coprire i disegni. Il sostantivo significatio, indicazione. Il sostantivo signifer, portatore di vessilli, o in poesia usato come aggettivo, stellato. Il sostantivo sigillum, sigillo. L'aggettivo insignis, notevole e distinto, dal cui plurale neutro insignia, deriva in italiano insegna. Nell'antichità, come ci racconta Cicerone, nel Derivinazione, si credeva che il signa fosse nel mezzo attraverso il quale gli dei mettevano a conoscenza l'uomo riguardo agli eventi futuri, già fissati dal destino. Questi segni non sono mai però troppo chiari, generalmente richiedono infatti l'intermediazione dei professionisti. Gli indovini. Il segno, dunque, è strumento di conoscenza. Più segni individuiamo, più riusciremo a capire il mondo. È un qualcosa che si coglie solo superando la banalità dell'apparenza. La realtà sarebbe, dunque, costituita da un insieme di segni che è necessario decipherare, come sostenevano i simbolisti francesi. L'osservazione dei segni è importante per prevenire il futuro. Occorre saperli leggere e seguirli per orientare le nostre azioni. In vista della salvezza del genere umano e del nostro pianeta, come fa Enea, egli segue la stella che ha inviato a Giove e che segna per lui il cammino al fine di salvare se stesso e la sua gente. Bisogna quindi dare ascolto a ciò che l'universo vuole dire. Grazie. 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 Grazie.